Nel nome del grande celebre tenore di origini molisane Mario Lanza, torna a Filignano il festival internazionale a lui dedicato. Si svolgerà dal 10 al 17 agosto attraverso appuntamenti musicali allestiti in piazza Municipio e nell'Aia di Mennella, alle pendici delle Mainarde. Anche quest'anno il Presidente dell'Associazione Mario Lanza, Michel Rongione, ha organizzato un cartellone ricco di eventi che spaziano da serate dedicate alla musica lirica a serate dedicate anche alla musica leggera. Il Comune ringrazia sicuramente l'Associazione Mario Lanza per tutto quello che sta facendo in questi anni, perché è un festival che va avanti da tantissimi anni e che dà lustro e fa conoscere Filignano in tutto il mondo. In modo particolare ringraziamo il Presidente, perché anche durante l'emergenza sanitaria non ha interrotto il festival, ma ha organizzato sempre delle serate. Mario Lanza è conosciuto molto all'estero e noi siamo presenti tramite i fan club all'estero in circa 20 città del mondo. Addirittura quest'anno ha aperto in Cina un fan club di Mario Lanza. E allora con questi fan club del mondo che insistano per fare la manifestazione, ecco qua perciò siamo obbligati ad andare avanti nei migliori dei morti. Questo è il rapporto tra il Molise e il resto del mondo, specialmente con gli americani, con Filadelfia dove chiaramente era casa di Mario Lanza. Organizziamo questo evento importante e poi non dimentichiamo che c'è un concorso di canto per i giovani che poi i vincitori andranno a Filadelfia nel mese di ottobre a cantare nel museo di Mario Lanza a Filadelfia. Grazie. Grazie.